Attilio Urciuolo, e-commerce e web design. Un nuovo episodio increscioso che fa seguito alle lettere di minacce prima al sindaco Giordano, poi ai due delegati in giunta, Tomeo e Renzulli. Un escalation che ha coinvolto anche il comune di Montoro, colpito duramente al cuore con atti intimidatori al sindaco Bianchino, a cui i gnoti hanno prima incendiato una villetta di famiglia e poi la sua auto personale. Un attacco alle istituzioni, al territorio. Per questo motivo entrambi i primi cittadini hanno chiesto più controlli da un lato e più forze dell'ordine presenti. Richiesta consegnata al prefetto di Avellino durante la riunione del Comitato per la Sicurezza Pubblica.